Le recenti polemiche che stanno scuotendo la Chiesa, la curia e il mondo ecclesiale nel suo insieme e che hanno coinvolto anche me con polemiche, con accuse, con interpretazioni sulle mie intenzioni, seconde intenzioni e via di seguito, credo che siano purtroppo un fatto che non sia nuovo nella Chiesa. Sappiamo infatti che fin dai primi tempi nella Chiesa Primitiva c'erano le divisioni. Io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Pietro e io sono di Cristo, dice un altro. La verità è che tutti noi dobbiamo essere solo di Cristo, certo per mezzo di Pietro, per mezzo di Paolo, per mezzo di quello che sia, ma l'importante è essere incorporati a Cristo e purtroppo a volte la nostra umanità prende il sopravvento e più che guardare in alto, più che volare alto come il nostro caro e amato Barone Rosso, noi sguazziamo, neanche facciamo un po' raso terra e spariamo contro gli avversari, che quella è una cosa buonissima, ma lasciamo giù l'aereo e ci mettiamo a sguazzare nel fango di inutili polemiche intra ecclesiali che sono uno spettacolo per il mondo pagano, che dice guardate come si odiano, guardate come si scannano, guardate come dice la lettera ai Galati al capitolo 5, versetto 15, ma se vi mordete e divorate a vicenda guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri, ma che spettacolo siamo davanti al mondo, se all'interno della chiesa ci scanniamo, anche su questioni importantissime. Sapete cosa vi dico? Che io scuoto la polvere dai miei sandali, anzi dalle mie scarpe e lascio che si scannino fra di loro. La mia missione è un'altra, come dice San Paolo, rivolgermi ai pagani. Portiamo l'annuncio del Vangelo, la bellezza della nostra fede a quelli che sono lontani, a quelli che hanno veramente bisogno. Cristo ci chiama non a scannarci fra di noi. Certo, se c'è un avversario che sta distruggendo tutto, se c'è qualcuno che sta facendo del male la mia famiglia, è mio dovere di legittima difesa, non solamente portare via la mia famiglia da questi pericoli, ma se questi pericoli continuano, mettere il nemico ingiusto in grado di non più nuocere. Ma il nostro obiettivo dei cristiani è quello di portare il fuoco dell'amore di Cristo al mondo intero, anche agli induisti, agli islamici, agli scintoisti, a quelli che credono la dea Kali. Noi dobbiamo parlare di Cristo a tutti e se mostriamo uno spettacolo così squallido di cristiani che si odiano fra di loro, di cristiani che fanno una liturgia sciatta, brutta, la bruttezza, l'intellettualismo pezzente al potere, come è purtroppo in tanti ambienti ecclesiali. Ma che attrazione può avere questa roba qua per chi non conosce Cristo? Invece Cristo è una meraviglia. Io quando sento parlare di Cristo, che so, ho letto anche Il maestro e Margherita di Bulgakov, dove c'è un bellissimo pezzo dove si parla del processo a Gesù compilato e via di seguito. Bellissimo! Tu lì, anche attraverso la penna di questo scrittore che aveva le sue idee, non sto a giudicare di quale fosse il contenuto morale del cuore di Bulgakov, ma mi parla di Cristo e io incontro Cristo anche attraverso un testo letterario e mi fa desiderare di più parlare di Cristo al mondo intero, dire quanto è bello appartenere a Cristo, appartenere alla Chiesa, essere figli della Santa Vergine Maria. Allora, quando noi ci dedichiamo a questo, il nostro sguardo diventa luminoso, non è più uno sguardo torvo, di rabbia, di polemica contro gli avversari intra ecclesiali. Basta, scuotiamoci la polvere dalle scarpe e lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti. Voliamo alto, guardiamo il cielo e cambia tutto. Allora non c'è più bisogno di polemizzare con chi la pensa, ma perché quello è il Papa, quello non è il Papa, ma perché quello fa la liturgia bene, quello lo fa male, quello lo fa in latino, quello lo fa in italiano, quello si mette la stola multicolore, quello se la mette di un colore solo e vi di seguito. Facciano come credano, noi non polimizzeremo più con nessuno, se ce la faccio, ma cercheremo di fare qualcosa di più grande, qualcosa di più elevato, qualcosa che anche a quello scintoista che si trova là in quella città dove sia, dica guardando, sentendo, mamma mia, ma io quella roba la voglio, la voglio per me, perché dà senso alla mia vita, dà risposta alla mia ansia di eternità, alla mia ansia di felicità, che il mio scintoismo, che il mio ateismo, che il mio lavoro, che le mie donne, che i miei uomini, che i miei divertimenti, che le mie paciugate non riescono a soddisfare. Quando abbiamo dato una risposta all'ansia di vita eterna che c'è nel cuore di ogni essere umano, bene, abbiamo fatto la missione di Cristo, abbiamo portato le persone a Cristo, cosa c'è di meglio? E fede cultura che io indegnamente guido, che cosa fa? Si propone di fare questo. Noi offriamo la vera tradizione cattolica una fonte cristallina, pulita, bella, luminosa, che ci serve per evangelizzare, che ci serve per conquistare il mondo intero a Cristo. Fede cultura serve a questo. Se la mettiamo a servizio esclusivamente di una polemica intra ecclesiale, va bene, qualche volta ci può stare anche, come ci può stare il pepe, il peperoncino dentro a un piatto, dentro una pietanza, però non possiamo fare un piatto solo di peperoncino o di pepe, sennò diventa una schifezza. Ecco, allora va bene ogni tanto una spruzzatina, una mitragliatina, diciamo così, ma soprattutto voliamo alto, mostriamo le cose belle che ci sono nella Chiesa. Abbiamo duemila anni di storia, abbiamo duemila anni di spiritualità, abbiamo duemila anni di santità, di dottrina cattolica infallibile, che non cambia nemmeno col cambiare dei papi, dei vescovi, dei parroci e delle mode ecclesiastiche, no? Qualche cosa che rimane, diciamo così, un cristianesimo non doc, ma toc, tradizione di origine controllata. Lì andiamo sul sicuro, sappiamo che abbiamo qualche cosa di buono e non ci importa niente se chi scrive per noi, a volte anche su un piano umano personale, fa delle scelte che non condividiamo. Se dice qualche cosa di buono, come dice, non ricordo più quale santo, qualunque cosa vera si pronunci viene dallo Spirito Santo, venisse anche da un ateo, venisse da un buddista, venisse da un discredente o da un eretico. Se dice la verità, quella cosa viene dallo Spirito Santo. Io non voglio discriminare qualcuno perché per delle sue scelte personali non appartiene alla mia piccola cricca, al mio piccolo ghetto. Se dice qualcosa di vero, se dice qualcosa di santo, qualcosa che mi aiuta a discernere la spiritualità buona, quella che eleva verso il cielo o quella che ti piomba verso il fango, benvenuto, benvenuto. Non farò l'elitario, non lo disprezzerò, prenderò il buono che sa darmi e cercherò di portarlo come una fiaccola perché possa illuminare tanti. Facciamo così, la nostra vita cambierà e forse se ne gioverà anche il nostro fegato.